Allora, noi abbiamo questa gestione temporanea di tre mesi, no? C'è questo problema del coronavirus, noi vi abbiamo dato disposizione di pulire tutte le superfici con cloro, alcol, eccetera, però le ore delle signore sono quelle che sono, sono quelle mentie normali, però noi abbiamo delle preoccupazioni che mi arrivano da più uffici, delle giuste preoccupazioni, ma giuste preoccupazioni nel senso che magari si portano la mucchina a casa, puliscono la sedia con la mucchina e poi vedono che dallo straccio esce nero, voglio dire. Quello uscirà sempre, attenzione.